Bentornati in Scopri l'Italia con Flavia. Se sei nuovo su questo canale iscriviti, se il video ti piace lascia un like e se hai qualche domanda scrivi qui sotto nei commenti. Oggi scopriremo insieme cibi e tradizioni della Calabria. Chi mi segue dall'inizio sa che sono calabrese, precisamente di Catanzaro, e che sono un amante della cucina tradizionale. Per chi non conoscesse questa regione si trova nel sud Italia, bagnata da meravigliose coste e con altrettante montagne tutte da scoprire. La tradizione culinaria è accompagnata dalla bellezza dei paesaggi, dalla storia antica dei luoghi di cui ancora oggi si possono ammirare i resti. Negli anni molti calabresi sono andati via dall'Italia e hanno portato le tradizioni della cucina con loro. Se anche tu sei calabrese e vivi all'estero, lascia un peperoncino piccante qui nei commenti. Se anche tu usi gli ingredienti di cui ti parlerò tra poco nelle tue ricette, scrivi qui sotto come. Se invece vieni da un'altra regione d'Italia, scrivi qui sotto da quale. E la regione con il maggior numero di commenti sarà la prossima del video di Scopri l'Italia con Flavia. Oggi vi parlerò dei mie 10 piatti preferiti che credo siano imperdibili quando si visita questa regione. Ricordati di guardare il video fino alla fine per scoprire tre feste divertenti e gustose. La sardella. La sardella è una pasta cremosa a base di sardine o bianchetti che sono i neonati delle sarde, con sale, peperoncino e spezie varie, ad esempio il finocchietto. Si utilizza spalmandola su fette di pane e si serve con cipolla fresca o come condimento con la pasta, ad esempio gli spaghetti. Lo stocco alla mammolese. Questo è uno dei pilastri della tradizione gastronomica calabrese. Nel 1500 veniva mangiato soprattutto dai contadini perché era un cibo molto povero. La ricetta alla mammolese richiede l'arricchimento del pesce con peperoni, cipolla e olive e viene mangiato in un tegame di terracotta. Il morsello, in dialetto un morsello, è un piatto tipico catanzarese, a base di trippa. La sua cottura precisa è un po' un mistero per tutti. Ciò che sappiamo è che si tratta di trippa cucinata nel sugo di pomodoro, arricchito con peperoncino e vari aromi. Viene obbligatoriamente mangiato con della pitta, che è un tipo di pane a forma di cerchio. Viene inzuppato alle estremità nel sugo e poi riempito di carne e mangiato rigorosamente con le mani. Di solito si mangia in famiglia durante la festa di capodanno. Patate e peperoni, in dialetto patate e pipareri o pipi e patati, sono peperoni fritti con le patate. Questo è un piatto di tradizione contadina. È il solito piatto della domenica, che si può trovare su tutte le tavole calabresi, soprattutto quelle delle nonne. Se dovessi trovarti in viaggio, in questa regione, potrai assaggiarlo ovunque, nei ristoranti, nelle trattorie, in ogni caso saranno eccezionali. L'anduia. Tutti conoscono l'anduia. È un insaccato morbido e piccante tipico della Calabria e prodotto in primis a Spilinga, in provincia di Vibbo Valencia. Molti hanno avuto modo di assaporarla, magari spalmata su una fetta di pane caldo o come condimento di pasta e pizza. Qui in Calabria usiamo l'anduia praticamente ovunque ed è un orgoglio calabrese riconosciuto in tutto il mondo. Soprattutto per gli avanti del piccante, credo che tra i modi più moderni di provarla sia all'interno degli arancini. Ma in realtà qui viene aggiunta anche alla pasta e fagioli, alle zuppe e accompagnata da formaggi stagionati e olive. Il tartufo di Pizzo. Nel Novecento, in occasione di un'importante visita di un principe, venne fatta una maggiore richiesta di dolci agli abili pasticceri di Pizzo. Il gelatiere Giuseppe De Maria, che all'improvviso era rimasto senza più granite né formine, si inventò un nuovo prodotto. Con le mani modellò delle palline di gelato artigianale, metà alla nocciola e metà al cioccolato, con dentro del cioccolato fuso, caramello e liquore. Chiudendole poi con un metodo simile a quello usato per l'arancino, è ricoperto di cacao amaro o zucchero. Insomma, il tartufo è rimasto nella tradizione calabra ed è nostra usanza, in domeniche primaverili, recarsi a Pizzo, bellissimo borgo sul mare, e dopo una passeggiata sedersi in uno dei bar in piazza, per mangiare uno dei deliziosi tartufi. Dal più classico, al cioccolato e nocciola, ai più moderni, al pistacchio o al bergamotto. Le patate impacchiuse. Questo è un piatto tipico della Calabria centro-settentrionale. La versione cosentina prevede nella frittura anche l'aggiunta di cipolla e peperoncino, e le varianti aggiuntive di salsiccia e peperoni. Le patate calabresi più osate sono quelle silane, cioè prodotte sulle montagne della Sila. L'area silana è stata riconosciuta negli anni come la più pulita d'Europa. Se ti piace cucinare, visita la mia pagina Instagram, Italia Lessons with Flavia, dove potrai trovare la ricetta delle patate impacchiuse. Le zeppole. Le zeppole sono un tipico prodotto casereccio del territorio calabrese, che si prepara nel periodo di Natale, nelle festività di Pasqua e Carnevale, e inoltre vengono preparate anche durante l'anno, in occasione di feste di famiglia, anche in numerose sacre estive di paese. Le zeppole si preparano con l'impasto di patate, farina e lievito, e vengono poi fritte, senza ripieno, oppure con all'interno acciughe, baccalà o stoccafisso. Vengono anche mangiate dolci, senza ripieno e ricoperte di zucchero. La cipolla di Tropea. Chiamata oro rosso della Calabria, è rinomata in tutto il mondo ed è apprezzata da tutti. Viene coltivata in diversi paesi calabresi ed esportata ormai ovunque. Qui si può gustare sia in preparazioni di carne che di pesce, ma anche ad esempio sotto forma di marmellata, da accompagnare a formaggi salati, come ad esempio il pecorino. La soppressata di Calabria. La soppressata è un insaccato di carne che non manca mai sulle tavole calabresi. La si può gustare da sola, semplicemente accompagnandola con una fetta di pane casereccio, ma è anche molto diffusa come antipasto, ad esempio all'interno di un ricco tagliere di prodotti tipici, composto da altri salumi, formaggi e conserve sott'olio. Può essere anche utilizzata come ingredienti, per panini, pizze, focacce o per arricchire pietanze della cucina calabrese, ad esempio sughi o parmigiane. Grazie per essere arrivato fino alla fine del video. Adesso ti parlerò di tre feste scelte da me tipiche calabresi. La Sagra dell'Anduia. Si svolge ogni anno ad agosto nel paese di Spilinga, in provincia di Vibo Valencia. Durante la sagra si propongono ai partecipanti numerose pietanze popolari, dagli spaghetti alle cipolle, ai fagioli, alle bruschette e alle verdure. Tutte bontà preparate in casa. Oltre la parte culinaria della giornata, il pubblico viene intrattenuto anche da numerose attività, ad esempio quelle legate al folclore, ai giochi popolari e alla musica tradizionale. Infatti è immancabile la tarantella calabrese. Il Festival del Peperoncino, invece, ha Diamante, in provincia di Cosenza. Ogni anno, per cinque giorni, a settembre, ci sono mostre, spettacoli, dove tutto parla di peperoncino. Negli stand di cibo si possono assaggiare prelibatezze, tutte piccanti. Per gli amanti del peperoncino è una festa imperdibile. La Sagra del Vino. Se sei amante del buon vino, allora una delle sagre imperdibili è quella di Battirò, a pochi chilometri da Tropea, in provincia di Vibo Valencia. Viene offerto vino locale, accompagnato da piatti tipici calabresi preparati dagli stessi abitanti. E la Sagra continua con musica popolare e balli in piazza. Se sei stato qui in Calabria e hai partecipato ad altre feste o sagre tipiche calabresi, allora scrivilo qui nei commenti e raccontami la tua esperienza. Grazie per aver visto il video, spero ti sia piaciuto e scrivi qui sotto una regione. La più votata sarà la prossima in Scopri l'Italia con Flavia. E non dimenticare di seguirmi su Instagram e Facebook su Italia Lessons with Flavia. Ciao, al prossimo video!